Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza guida e tutorial certificati per una durata superiore ai 10 minuti perché la vita è breve ma l'arte è lunga voglio presentarvi EducaPlay EducaPlay è una piattaforma per attività didattiche e cioè un ambiente in cui noi possiamo costruire esercizi, attività e compiti di differenti tipologie, assomiglia in questo a WorldWall, Learning Apps, WiserMe e altri strumenti di questo tipo cercherò quindi di darvi una presentazione generale di questo ambiente per poi concentrarmi su una delle tipologie di attività, i video quiz bene, EducaPlay è in tre lingue spagnolo, inglese e mi pare francese e Freemium le attività che noi possiamo creare o far creare agli studenti meglio ancora sono attività multimediali cioè possiamo far ricorso a differenti tipologie di media come immagini, come mappe o come video eccetera per creare differenti tipologie di quiz, giochi, attività e via dicendo che sono di tipo interattivo quindi gli studenti nei loro dispositivi e con i loro dispositivi possono affrontare e risolvere tali compiti come caratteristiche generale EducaPlay si presenta come uno strumento piuttosto semplice da utilizzare è multipiettaforma, è in HTML5 quindi lo possiamo usare con qualsiasi sistema operativo e con qualsiasi tipo di dispositivo ed è Freemium recandoci sul sito di EducaPlay e facendo riferimento al menu in alto possiamo cliccare su Premium per vedere i vari piani di abbonamento vediamo che la versione Freemium permette di creare qualsiasi tipo di attività e di creare anche collezioni e gruppi e anche di ottenere dei reports sulle attività svolte dagli studenti e quindi di verificare quanti hanno risposto, come hanno risposto e così via vi sono poi varie altre soluzioni il cui prezzo varia potete anche tradurre in italiano cliccate col pulsante destro del mouse se avete Google Chrome traduci in italiano e così potete meglio se conoscete poco l'inglese come me comprendere questo schema quindi 4 ore al mese, 8 ore al mese, 39 ore al mese e vedete le varie voci soprattutto la pubblicità quindi con la versione a pagamento da 4 euro in poi non abbiamo più pubblicità nel sito, nelle attività possiamo creare i nostri gruppi e disabilitare la modalità anonima nelle attività e quindi far sì che quell'attività sia assegnata a uno specifico gruppo e così via bene, come vedete i prezzi sono anche abbastanza moderati ma possiamo tranquillamente utilizzarlo gratuitamente avendo a disposizione le principali funzionalità per creare, somministrare e valutare le attività e i giochi gli utilizzi di EducaPlay sono abbastanza bovi prima di tutto si tratta di un approccio basato sul game based learning cioè sull'apprendimento basato sui giochi perché si tratta di attività piuttosto stimolanti e coinvolgenti in quanto hanno come modello quello del gioco si tratta di rispondere a domande tradizionali scelte multiple, vero o falso e così via e comunque di agire col mouse per risolvere delle situazioni utile per che cosa? per l'online learning e il blended learning cioè per l'apprendimento che si basa sul web e per il blended learning cioè per quell'approccio in cui noi utilizziamo strumenti cloud propri del web come appunto EducaPlay e i giochi che ci permette di creare per integrare le attività in presenza che facciamo in aula altrimenti possiamo fare sì che questi giochi, quiz, attività, compiti vengano dai nostri studenti svolti anche in aula con i loro dispositivi mobili oppure possiamo far sì che li svolgano quando vogliono e dove vogliono a casa per esempio in un momento in cui non sono cioè a scuola e quindi appunto attività online interessante anche per quello che è un obiettivo che è oggi molto sentito giustamente sentito la media education perché soprattutto se facciamo sì che siano gli studenti a creare questi giochi queste attività essi avranno a che fare con differenti media con i loro codici si renderanno meglio conto di come quindi funzionano i vari mezzi, strumenti e canali comunicativi che oggi si intrecciano e che funzionano in modalità integrata e sistemica nel web e negli altri mezzi di comunicazione possiamo anche creare dei veri e propri moduli di apprendimento qui vedete le 16 tipologie di attività che possiamo creare si tratta di indovinelli, riempimenti, parole crociate, discussioni, dettatura e così via mappe interattive, presentazioni, slideshow, corrispondenze, ricerca di parole, quiz, videoquiz, giochi alfabetici eccetera bene, una volta che ci troviamo nel sito di Educaplay dobbiamo creare un account compilare come al solito un modulo in cui specificare ciò che ci viene chiesto io ho già il mio account e quindi accedo e a questo punto posso andare sul mio account per configurarlo quindi inserire i vari dati i dati di accesso e quindi modificare la password e così via qui avrò un menu che mi permette di controllare tutto l'ambito di attività e tutti gli strumenti che Educaplay mi offre quindi quali sono le mie attività queste sono le attività di prova i videoquiz che ho realizzato i miei favoriti perché posso utilizzare anche risorse queste, vedete, fatte da altri e utilizzarle selezionandole io stesso per esempio posso selezionare i quiz, i giochi in italiano vedete ci sono cruciverba esercizi sugli aggettivi ricomponi le frasi eccetera eccetera acidi di carbossilici e così via tutto in italiano quindi io posso usare uno di questi esercizi e assegnarlo ai miei studenti un'altra cosa che posso fare è realizzare i gruppi alcuni gruppi sono privati ma bisogna avere la modalità premium e quindi pagare per creare un gruppo privato per esempio come vedete questo è il gruppo privato di una classe quindi io posso creare dei gruppi che corrispondono alle mie classi e segnare le attività soltanto le mie classi e soltanto i miei studenti potranno quindi vedere queste attività mentre con la versione free noi abbiamo soltanto la possibilità di pubblicare come pubblici i nostri compiti e le nostre attività quindi vedete tutti potranno vedere le nostre attività in quanto sono pubbliche per renderle private bisogna avere un account premium bene tornando al mio account continuiamo a vedere queste sono le raccolte vedremo cosa sono le raccolte potete sempre ricorrere al solito trucco traducci in italiano e qui vi spiega cos'è una raccolta una raccolta è una serie di attività come queste che noi possiamo organizzare in una sorta di modulo omogeneo di apprendimento che si articola in più passaggi ogni passaggio un'attività un compito che gli studenti devono svolgere e ovviamente questo modulo avrà una sua omogeneità in quanto queste attività si sviluppano intorno a un argomento o tema disciplinare o interdisciplinare che le rende come dicevo omogenee quindi una sorta di modulo di apprendimento questa collezione possiamo come vedete modificare aggiungendone altre creandole noi stessi scegliendole vedete aggiunge un'attività la possiamo cercare tra quelle già pubblicate da altri o da noi stessi poi abbiamo le attività svolte qui non ce n'è nessuna altrimenti ci apparirebbero le attività svolte dai nostri studenti qui abbiamo anche un sistema di messaggistica interno i risultati questi sono i vari report per un gruppo per esempio una mia classe o per un singolo studente che si presentano più o meno in questo modo vedete per ciascun test noi abbiamo i risultati di ciascun studente la data in cui ha eseguito il test e così via da qui posso gestire i miei gruppi torniamo all'inglese io non ho ancora gruppi e qui abbiamo statistiche report dell'attività report dei gruppi e così via bene diciamo che quindi gli strumenti messi a disposizione sono quasi tutti utilizzabili anche con la versione free perciò adesso andiamo a vedere come si realizza un'attività ecco queste sono le attività tra cui possiamo scegliere dobbiamo cliccare su new activity se vogliamo capire più esattamente in che cosa consistano queste attività che ci vengono proposte per esempio che so crossword puzzle clicchiamo sopra e abbiamo delle spiegazioni in inglese e abbiamo anche un esempio che ci permette di comprendere che tipo di attività esattamente di che tipo di attività esattamente si tratti abbiamo anche un breve video che ci spiega in che modo realizzare questa attività possiamo naturalmente sempre tradurre in italiano tenendo una traduzione abbastanza chiara si tratta di cruciverba io voglio mostrare come si può sfruttare l'enorme archivio di video presente in rete per costruire un video interattivo cioè un video in cui gli studenti dovranno ascoltare e guardare il video e rispondere a delle domande che noi abbiamo inserito nel video quindi andiamo su new activity selezioniamo l'icona corrispondente al video quiz basta posizionarci e comparirà anche una scritta che ci aiuterà e a questo punto dobbiamo configurare il nostro quiz quindi la lingua sarà l'italiano il titolo sarà prova mi pare questa è la quarta che faccio qui daremo una breve descrizione che spiegherà di che tipo di prova si tratta di quale sia l'argomento eccetera qui dobbiamo selezionare il corso cioè la classe a cui è rivolto per esempio io ho una classe ecco una quarta superiore secondaria del secondo grado e l'argomento cioè la materia è storia a questo punto ho selezionato e configurato il mio gioco il mio quiz e passo allo step successivo questa è la nostra area di lavoro il nostro editor per realizzare le prove da sottoporre agli studenti la configurazione come vedete è riservata per quasi tutte le voci agli utenti che hanno l'account premium qui posso non posso far altro che avere come privacy quella pubblica non lo posso rendere privato insomma la mia attività chiunque può svolgere l'attività che io propongo che è appunto pubblica non la posso assegnare a un gruppo specifico riservandola a loro devo avere l'account premium per modificare il logo e altre caratteristiche come il colore devo avere l'account premium commerciale posso modificare questo parametro invece e cioè le domande devono essere chiedo scusa le risposte devono essere scritte tenendo conto della differenza tra le tre maiuscole e minuscole e tenendo conto degli accenti quindi sarà sbagliato se l'accento non sarà giusto la risposta sarà sbagliata a questo punto vedete ho sulla destra altri due strumenti questo strumento mi serve per inserire delle etichette cioè dei tag io inserirò bisogna inserire almeno tre tag io inserirò il tag risorgimento non l'ho scritto bene eccolo qua poi inserirò il tag poniamo Italia e il tag unificazione sono già quattro ma mettiamo anche unificazione italiana ecco qua a questo punto dicevo posso utilizzare ecco lo strumento superiore invece mi dà alcune informazioni posso avere l'anteprima del quiz che ho realizzato pubblicare l'attività e posso avere un aiuto cliccando su aiuto infatti mi viene data una sorta di lista di checklist in cui mi si dice quali sono le condizioni minimali perché il quiz possa essere pubblicato ci devono essere tre tag ci deve essere un certo numero di domande il numero ideale viene detto qui è tra le 16 e le 12 domande la lunghezza totale del video quiz che viene proposta come ideale tra i 5 e gli 11 minuti si raccomanda anche che le domande siano equidistanti per quanto possibile non tutte concentrate sono a parte del video mentre l'altra rimane priva di domande e si suggerisce anche di fornire dei feedback vediamo come procedere abbiamo tre schede la prima scheda ci permette di trovare il video altrimenti possiamo incollare anche un link abbiamo risorgimento italiano io quindi scelgo uno di questi video lo seleziono e adesso posso cominciare a lavorare sul video come funziona adesso io tolgo l'audio per evitare sovrapposizioni di suono io clicco sul video lo ascolto e inserisco nella parte che ritengo opportuna una domanda per esempio al sedicesimo secondo si parla del congresso di Vienna allora vedete io sposto queste due maniglie sposto la maniglia iniziale al sedicesimo secondo quindi la mia domanda riguarderà quello spezzone di video che comincia al secondo 16 e continua poniamo fino al secondo 29 e aggiungo la prima domanda question la prima domanda io adesso non la scrivo ma sarà formulata qui e poi posso scegliere tra scelta multipla con una sola risposta esatta scelta multipla con più risposte esatte risposta aperta breve quindi un testo scritto breve una domanda risposta aperta e una domanda risposta aperta con un testo scritto ampio più ampio dunque scegliamo questa scelta multipla singola qui abbiamo le varie risposte risposta 1 poi aggiungo un'altra risposta e quindi risposta 2 e così via mettiamone un'altra ancora ops seleziono quella giusta poniamo la 2 e do anche un feedback qui e posso inserire un suggerimento per esempio magari potrebbe essere anche il link di un sito o una frase un consiglio eccetera a questo punto ho concluso l'inserimento della domanda e devo cliccare non su save perché clicco su save mi viene chiusa l'attività e poi passo a pubblicarla ma su salva e continua ad inserire domande come vedete mi viene ripresentato il video procedo la stessa maniera ascolto il video individuo vedete qui ho inserito la domanda individuo la parte che mi interessa poniamo al momento il 56esimo secondo vado qui 56 continuo a scorrere finché scelgo di terminare la parte significativa del video per quanto concerne la domanda che voglio fare a un certo momento e a questo punto aggiungo la seconda domanda per esempio multipla a più risposte e così via inserisco qui la domanda qui inserisco le varie risposte aggiungiamo le varie risposte risposta 2 risposta a 3 indichiamo le due giuste perché abbiamo scelto multipla quindi più risposte corrette salva e continua come vedete questa sorta di potenziometro sta indicando in questo caso sono arrivato a 26 su 100 sta indicando la compatibilità del mio quiz del mio video quiz con quella che è la checklist che vi ho fatto vedere prima ecco questo è il video quiz che ho completato inserendo 5 domande vedete che posso se posiziono il mouse posso editare il segmento o posso editare la domanda cosa vuol dire edito il segmento di video vuol dire che cliccando su edit segment posso modificare la ampiezza la durata del segmento pertinente per la domanda che ho fatto e poi salvare le modifiche mentre la domanda posso apportare delle correzioni e quale situazione politica viene in Italia questa era una scelta multipla con risposte corrette e multiple tutti vivono felici la divisa in tanti piccoli stati invece scriviamo non so imperversava il librismo tutti leggevano libri oppure non si sa con certezza pare si mangiasse pizza tutti i giorni bene abbiamo cambiato le risposte esatte salviamo possiamo quindi vedete modificare successivamente il nostro video ovviamente possiamo anche vedete trascinare le domande spostando con trascinamento le varie domande che si riferiscono al nostro video quindi ognuna di queste icone rimanda a una delle domande che io ho fatto su uno spezzone di video andiamo a vedere poi ecco vedete il nostro potenziometro indica 74 possiamo vedere l'anteprima il video si presenterà in questo modo iniziamo il video scorrerà io adesso ho tolto l'audio naturalmente andiamo a vedere la prima domanda quale cosa si dice quando si sa si fa non si sa seleziono questa domanda verifico la risposta cliccando su risposta la risposta è sbagliata seguente e così via il video continuerà a scorrere fino ad arrivare alla seconda domanda quale è lo scopo del congresso di Vienna unificare l'Europa sistemare l'Europa dopo quella di Napoleoni che risposta la risposta è corretta eccetera ecco questa è l'anteprima così il video quiz verrà visualizzato dagli studenti a questo punto posso pubblicare la mia attività attività e il gioco è fatto se vado su il mio Educaplay vedete qui ho l'attività ho le varie opzioni posso cancellarla oppure posso appunto svolgerla quindi darò questo link ai miei studenti la posso condividere nei social network e così via qui posso avere anche i risultati qui ho i tag la descrizione il livello di scuola può essere anche commentata quindi ci può essere anche una discussione basta postare un commento in questa casella e quindi si può diciamo così anche avviare una discussione su su quelle che sono su quello che è il quiz insomma bene sono stato piuttosto lungo quindi posso salutarvi e spero vi sia stato utile questa guida alla realizzazione di video quiz con Educaplay buona giornata a tutti